uno strappo nel cielo di carta capitolo 12 fu mattia pascal la tragedia d'oreste in un teatrino di marionette venne ad annunziarmi il signor anselmo peleari marionette automatiche di nuova invenzione stasera alle ore 8 e mezzo in via dei prefetti numero 54 sarebbe da andarsi signor meis la tragedia d'oreste già da pressofocle dice il manifesto sarà le lettere ora senta un po' che bizzarria mi viene in mente se nel momento culminante proprio quando la marionetta che rappresenta oreste è per vendicare la morte del padre sopra egisto la madre si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino chi avrebbe dica lei non saprei risposi stringendomi nelle spalle ma è facilissimo signor meis oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo e perché mi lasci dire oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta vorrebbe seguirli con smaniosa passione ma gli occhi su quel punto e andrebbero lì a quello strappo dove ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia oreste insomma diventerebbe amleto tutta la differenza signor meis fra la tragedia antica la moderna consiste in ciò creda pure in un buco nel cielo di carta e se ne andò ciabattando dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor anselmo lasciava spesso precipitar così come valanghe i suoi pensieri la ragione il nesso l'opportunità di essi rimanevano lassù tra le nuvole di modo che difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa l'immagine della marionetta d'oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente a un certo punto beate le marionette sospirai sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi non perplessità angosciose né ritegni né intoppi né ombre né pietà nulla che possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio senza soffrir mai vertigini o capogiri poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato è il prototipo di queste marionette caro signor anselmo seguitai a pensare voi l'avete in casa ed è il vostro indegno genero papiano chi più di lui pago del cielo di cartapesta basso basso che gli sta sopra comoda e tranquilla dimora di quel dio proverbiale di maniche larghe pronto a chiudere gli occhi ad alzare in remissione la mano di quel dio che ripete sonnacchioso a ogni marachella aiutati io t'aiuto e si aiuta in tutti i modi il vostro papiano la vita per lui è quasi un gioco d'abilità e come gode a cacciarsi in ogni intrigo alacre intraprendente chiacchierone aveva circa 40 anni papiano ad era alto di statura e robusto di membra un po calvo un po grosso con un grosso paio di baffi brizzolati appena appena sotto il naso un bel nasone dalle narici frementi gli occhi grigi acuti e requieti come le mani vedeva tutto e toccava tutto mentre per esempio stava a parlare con me si accorseva non so come che adriana dietro a lui stentava a pulire a rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito assentandosi pardon correva da lei le toglieva l'oggetto dalle mani no figlio la mia guarda si fa così e lo ripuliva lui lo metteva a posto lui e tornava da me oppure si accorgeva che il fratello il quale soffriva di convulsioni epilettiche si incantava e correva dagli schiaffetti sulle guance biscottini sul naso scipione scipione o gli soffiava in faccia fino a farlo rinvenire chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia certo egli se ne accorse fin dai primi giorni o perlomeno me lo intravide cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie che erano tutte uncini per tirarmi a parlare mi pareva che ogni sua parola ogni sua domanda fosse pur la più ovvia nascondesse un'insidia non avrei voluto intanto mostrare diffidenza per non accrescere i suoi sospetti ma l'irritazione che gli mi cagionava con quel suo tratto da vessatore servizievole mi impediva di dissimularla bene l'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete una era questa che io senza aver commesso cattive azioni senza aver fatto male a nessuno dovevo guardarmi così davanti e dietro timoroso e sospetto come se avessi perduto il diritto ad essere lasciato in pace l'altra non avrei voluto confessarlo a me stesso e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto avevo un bel dirmi stupido vattene via levati dai piedi codesto seccatore non me ne andavo non potevo più andarmene la lotta che facevo contro me stesso per non assumer coscienza di ciò che sentivo per adriana mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento e restavo lì perplesso smanioso nella malcontentezza di me anzi in un orgasmo continuo pur sorridente di fuori di ciò che mi era occorso di scoprire quella sera nascosto dietro la persiana non ero ancora venuto in chiaro pareva che la cattiva impressione che papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellata subito alla presentazione egli mi tormentava è vero ma come se non potesse farne a meno non certo quel disegno segreto di farmi andar via anzi al contrario che macchinava adriana dopo il ritorno di lui era diventata triste e schiva come nei primi giorni la signorina silvia caporale dava del lei a papiano almeno in presenza degli altri ma quell'arci fanfano dava del tu a lei apertamente arrivava finanche a chiamarla rea silvia e io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche certo quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita ma neanche d'essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità una sera c'era la luna piena e pareva giorno dalla mia finestra la vidi sola e triste là nel terrazzino dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima poiché vi interveniva anche papiano che parlava per tutti spinto dalla curiosità pensai ad andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono trovai al solito nel corridoio presso all'uscio della mia camera l'asser polato sul baule il fratello di papiano nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta aveva eletto domicilio lassù o faceva la sentinella per me per ordine del fratello la signorina caporale nel terrazzo piangeva non volle dirmi nulla da prima si lamentò soltanto di un fierissimo mal di capo poi come prendendo una risoluzione improvvisa si voltò a guardarmi in faccia mi porse una mano e mi domandò è mio amico lei se vuole concedermi questo onore le dispose inchinandomi grazie non mi faccia complimenti per carità se sapesse che bisogno ho io di un amico di un vero amico in questo momento lei dovrebbe comprenderlo lei che è solo al mondo come me ma lei è uomo se sapesse se sapesse addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere non riuscendovi lo strappò più riprese rabbiosamente donna brutta e vecchia esclamò tra disgrazie a cui non c'è rimedio perché vivo io si calmi via la pregai addolorato perché dice così signorina non mi riusci dir altro perché proruppe lei ma si arresto ad un tratto dica la incitai se ha bisogno di un amico e lei si agli occhi il fazzolettino lacerato e io avrei piuttosto bisogno di morire gemette con accoramento così profondo ed intenso che mi senti subito un nodo d'angoscia alla gola non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri ma neanche la morte mi vuole riprese niente scusi signor meis che aiuto potrebbe darmi lei nessuno tutt'al più di parole sì un po di compassione sono orfana e debbo stare qua trattata come forse lei se ne sarà accorto e non ne avrebbero il diritto sa perché non mi fanno mica le lemosina e qui la signorina caporale mi parlò delle sei mila lire scroccatele da papiano a cui ho già accennato altrove per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse non era certo quel che volevo sapere da lei approfittandomi lo confesso dell'eccitazione in cui ella si trovava forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più ma rischiai a domandarle ma scusi signorina perché lei glielo ha dato quel denaro perché estrinse le pugna due perfidie una più nera dell'altra glielo dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me ha capito con la moglie ancora in vita costui ho capito si figuri riprese con foga la povera rita la moglie si rita la sorella ad adriana due anni malata tra la vita e la morte si figuri se io ma già qua lo sanno come io mi comportai lo sa adriana e perciò mi vuole bene lei si poverina ma come sono rimasta io ora guardi per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte che per me che era per me tutto capirà non per la mia professione soltanto io parlavo con il mio pianoforte da ragazza all'accademia componevo ho composto anche dopo diplomata poi ho lasciato andare ma quando avevo il pianoforte io componevo ancora per me sola all'improvviso mi sfogavo mi inebriavo fino a cadere per terra creda svenuta in certi momenti non so io stessa che cosa mi uscisse dall'anima diventavo una cosa sola col mio strumento e le mie dita non vibravano più su una tastiera io facevo piangere e gridare l'anima mia posso dirle questo soltanto che una sera stavamo io e la mamma in un mezzanino si raccolse gente giù in strada che mi applaudì alla fine a lungo io ne ebbi quasi paura scusi signorina le proposi allora per confortarla in qualche modo e non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte mi piacerebbe tanto tanto sentirla suonare e se lei no mi interruppe che vuole che suoni io più è finita per me strimpello canzoncine sguaiate basta è finita ma il signor terenzio papiano ma rischiai di nuovo a domandare le ha promesso forse la restituzione di quel denaro lui fece subito con un fremito dire alla signorina caporale e chi gli era mai chiesto ma sì me lo promette adesso se l'aiuto vuole essere aiutato da me proprio da me ha avuto la sfrontatezza di propormelo così tranquillamente aiutarlo in che cosa in una nuova perfidia comprende io vedo che lei ha compreso adri la signorina adriana belbettai appunto dovrei persuaderla io io capisce a sposare lui si intende sa perché ha o piuttosto dovrebbe avere 14 15 mila lire di dote quella povera disgraziata la dote della sorella che egli doveva subito restituire al signor anselmo poiché rita è morta senza lasciar figliuoli non so che imbrogli abbia fatto ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione ora spera che sito ecco adriana chiusa in sé e più schiva del solito adriana s'appresso a noi ci inse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un di aver saluto quel capo provai dopo quelle confidenze una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro poco dopo però comparve nel terrazzino come un'ombra il fratello di papiano eccolo disse piano la caporale ad adriana questa succhiuse gli occhi sorrise amaramente scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi scusi signor meis buonasera la spia mi sussurrò la signorina caporale ammiccando ma di che teme la signorina adriana mi scappò detto nella cresciuta irritazione non capisce che facendo così da più ansia colui da insuperbire e da far peggio il tiranno senta signorina io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prendere gusto e interessarsi alla vita e li ammiro tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume seppure con la prepotenza quella del padrone la mia simpatia è per quest'ultimo la caporale notò l'ammirazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse e perché allora non prova a ribellarsi lei per primo io lei lei affermò il guardandomi negli occhi aizzosa ma che centro io risposi io potrei ribellarmi in una sola maniera andandomene ebbene concluse maliziosamente la signorina caporale forse questo appunto non vuole adriana chi me ne vada quella fece girare per aria il fazzolettino sbrendolato e poi solo raccolse intorno ad un dito sospirando chissà scrollai le spalle a cena a cena esclamai e la lasciai lì in asso nel terrazzino per cominciare da quella sera stessa passando per il corridoio mi fremmai dinnanzi al baule su cui scipione papiano era tornato ad accoccolarsi e scusi gli dissi non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente quale mi impiccia quegli mi guardò balordo con gli occhi languenti senza scomporsi ha capito incalzai scotendolo per un braccio ma come se parlassi al muro si schiuse allora duscio in fondo al corridoio ed apparve adriana la prego signorina le dissi veda un po di far intendere lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove è malato cercò di scusarlo adriana e però che è malato ribatte io qua non sta bene mi manca l'aria e poi seduto su un baule vuole che lo dica io al fratello no no soffrettò a rispondermi lei me lo dirò io non dubiti capirà soggiunsi non sono ancora re da avere una sentinella alla porta perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso cominciai a sforzare apertamente la timidezza di adriana chiusi gli occhi e mi abbandonai senza più riflettere al mio sentimento povera cara mammina e la si mostrò da principio come tenuta tra due tra la paura e la speranza non sapeva affidarsi a questa indovinando che il dispetto mi spingeva ma sentivo d'altra parte che la paura in lei era più cagionata dalla speranza fino a quel momento segreto e quasi incosciente di non perdermi e perciò dando io ora questa sua speranza alimento quei miei nuovi modi risoluti non sapeva neanche cedere del tutto alla paura questa sua delicata perplessità questo riservo onesto mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con papiano ma aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie e invece no tolse il fratello dal posto di guardia lì sul baule come io volevo e arrivò fin anche a celiar sull'aria impacciata e smarrita da adriana in mia presenza la compatisca signor meis è vergognosa come una monacella la mia cognatina questa inattesa remissione tanta disinvoltura mi impensierirono dove voleva andare a parare una sera me lo vedi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non faceva un rumore volesse sentire così battendo il bastone che gli camminava dove calè sto mecar parente si inese a gridare con stretto accento torinese senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate calcato fin sugli occhi a sportello appannati dal vino nella pipetta dalla bocca con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale dove calè sto mecar parente eccolo disse papiano indicandomi poi rivolto a me signor adriano una grata sorpresa il signor francesco meis di torino suo parente mio parente esclamai trasecolando quegli chiuse gli occhi alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa aspettando che io gliela stringessi lo lasciai lì in quell'atteggiamento per contemplarlo un pezzo poi che farsa è cotesta domandai no scusi perché fece tarenzio papiano il signor francesco meis mi ha proprio assicurato che è suo cousin appoggiò con gli occhi senza aprire gli occhi tutti i meis insomma parente ma io non ho il bene di conoscerla protestai oh ma costacale bella esclamò lui le proprio per l'on che mi son venuto a trovè meis di torino domandai io fingendo di cercarne la memoria ma io non son di torino come scusi interloqui papiano non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a torino ma sì riprese quelli allora seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima chisin chisin questo signore qua come si chiama terenzio papiano a servirla terenziano alà dimmi che tuo padre è andato in america cosa che vuol dire che ti sei fiore di barba antoni che è andato in america e non sono così ma se mio padre si chiamava paolo antoni paolo 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 vuol saperlo meglio di me colui si strinse nelle spalle e si stirò in sulla bocca smiava antoni disse stropicciandosi in mento ispido di una barba di quattro giorni almeno quasi tutta grigia il vino contraddirte sarà pro paolo ricordone ben poiché mila e ne conosci pover uomo era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in america eppure si rimise perché ad ogni costo volle essere mio parente mi disse che suo padre il quale si chiamava francesco come lui ed era fratello di antonio cioè di paolo mio padre era andato via da torino quando egli era ancora masnà di sette anni e che povero impiegato aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia un po qua un po là sapeva poco dunque dei parenti sia paterni che materni tuttavia era certo certissimo da essere mio cugino ma il nonno almeno il nonno lo aveva conosciuto voglio domandaglielo ebbene sì lo aveva conosciuto non ricordava con precisione sia a pavia o a piacenza ah sì proprio io conosciuto e com'era era non se ne ricordava lui franklin ha son passato trent'anni non pareva affatto in mala fede pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria chinava il capo con gli occhi chiusi approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere son sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli e gli avrebbe approvato allo stesso modo non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa che noi cioè fossimo cugini su questo non poteva transigere era ormai stabilito sì ci sarà fissato e dunque basta a un certo punto però guardando papiano e vedendolo gongolante mi passò la voglia di scherzare licenzai quel povero uomo mezzo ubriaco salutandolo caro parente e domandai a papiano con gli occhi fissi negli occhi per fargli intender bene che non ero pane per i suoi denti mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo scusi tanto signor adriano premise quell'imbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità mi accorgo di non essere stato felice ma lei è felicissimo sempre esclamai io no intendo di non averle fatto piacere ma correda pure che è stata una combinazione ecco qua sono dovuto andare questa mattina all'agenzia delle imposte per conto del marchese mio principale mentre ero là ho sentito chiamar forte signor meis signor meis mi volto subito credendo che vi sia anche lei per qualche affare che si avesse dico bisogno di me sempre pronto a servirla ma che chiamavano questo bel tomo come lei ha detto giustamente e allora così per curiosità mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio meis e di che paese fosse perché io avevo l'onore e il piacere di ospitare in casa un signor meis ecco com'è andata lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla all'agenzia delle imposte sì signore è impiegato la aiuto agente dovevo crederci voglio accertarmene ed era vero sì ma era vero del pari che papiano insospettito mentre io volevo prenderlo di fronte là per contrastare nel presente ai suoi segreti armezzi mi sfuggiva mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle conoscendolo bene avevo purtroppo ragione di temere che egli con quel fiuto nel naso fosse bracco da non andare a lungo a vento guai se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia l'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia figurarsi dunque il mio spavento quando i via pochi giorni mentre me ne stavo in camera a leggere mi giunse dal corridoio come dall'altro mondo una voce ancora viva nella mia memoria aggradessi a dio antes che me la son levata de sobre lo spagnolo quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di monte carlo colui che voleva giocare con me e col quale m'ero bisticciato a nizza per dio ecco la traccia era riuscito a scoprirla papiano balzai in piedi raggendomi al tavolino per non cadere nell'improvviso smarrimento angoscioso stupefatto quasi atterrito cesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due papiano e lo spagnolo era lui non c'era dubbio lo avevo veduto nella sua voce avessero attraversato il corridoio fuggire e se papiano entrando aveva domandato alla serva se io fossi in casa chi avrebbe pensato della mia fuga ma d'altra parte se già sapeva che io non ero adriano meis piano che notizia poteva avere di me quello spagnolo mi aveva veduto a monte carlo gli avevo io detto allora che mi chiamavo mattia pascal forse non ricordavo mi trovai senza saperlo davanti allo specchio come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano mi guardai ah quell'occhio maledetto forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto ma come mai come mai papiano era potuto arrivare fin là fino alla mia avventura di monte carlo questo più di ogni altro mi stupiva che fare intanto niente aspettarli che ciò che doveva avvenire avvenisse non avvenne nulla e pur non di meno la paura non mi passò neppure la sera di quello stesso giorno allorché papiano spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita mi dimostrò che gli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso di cui da un pezzo godevo i favori aveva voluto farmene un altro rimettendomi tra i piedi quello spagnolo che forse non si ricordava più di me né punto né poco secondo le notizie che papiano mi diede di lui io andando a monte carlo non potevo non incontrarvelo poiché era un giocatore di professione strano era che lo incontrassi ora a roma o piuttosto che io venendo a roma mi fossi intoppato in una casa dove anche egli poteva entrare certo se io non avessi avuto da temere questo caso non mi sarebbe parso tanto strano quante volte infatti non ci avviene di imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione del resto egli aveva o credeva ad avere le sue buone ragioni per venire a roma e in casa di papiano il torto era mio o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome circa vent'anni addietro il marchese ciglio dauletta di cui papiano era il segretario aveva sposato l'unica sua figliuola ad un antonio pantogada addetto all'ambasciata di spagna presso la santa sede poco dopo il matrimonio il pantogada scoperto una notte dalla polizia in una visca insieme con altri dell'aristocrazia romana era stato richiamato a madrid là aveva fatto il resto e forse qualcosa di peggio per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia dall'ora in poi il marchese dauletta non aveva avuto più pace forzato continuamente a mandar denaro per pagare i debiti di giuoco del genere incorreggibile quattro anni fa la moglie del pantogada era morta lasciando una giovinetta di circa 16 anni che il marchese aveva voluto prendere con sé conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta il pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare ma poi costretto da un'impellente necessità di denaro aveva ceduto ora e gli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a roma con questo intento per scroccare cioè altro denaro al povero marchese sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote pepita aveva parole di fuoco lui papiano per bollare questo indegno ricatto del pantogada ed era veramente sincera quella sua collera generosa e mentre gli parlava io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che pur potendo indignarsi così realmente delle altruine quizie gli permetteva poi di farne delle simili o quasi tranquillissimamente a danno di quel buon uomo del paleari suo suocero intanto il marchese giglio quella volta voleva tener duro ne seguiva che il pantogada sarebbe rimasto a roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa terenzio papiano col quale doveva intendersi a meraviglia un incontro dunque fra me e quello spagnolo sarebbe stato forse inevitabile da un giorno all'altro che fare non potendo con altri mi consigliai di nuovo con lo specchio in quella lastra l'immagine del fumatì a pascal venendo a galla come dal fondo dell'agora con quell'occhio che solamente mi era rimasto di lui mi parlò così in che brutto impizzo ti sei cacciato adriano meis tu hai paura di papiano confessalo e vorresti dar la colpa a me ancora a me solo perché io anizza mi bisticciai con lo spagnolo eppure ne avevo ragione tu lo sai ti pare che possa bastare per il momento il cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me ebbene segui il consiglio della signorina caporale e chiama il dottor ambrosini che ti rimetta l'occhio a posto poi vedrai